io sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan ciao ragazzi e chiunque ci stia guardando soprattutto a lui soprattutto a te e ricordiamo il tuo grande papà Enzo Yannacci un grande salutiamo ovunque sa e ti regalo la manina del salutatore grazie per te puoi salutare tutti quanti e come diceva tuo padre come diceva non so ne ha detto tante ne ha detto tante e allora quella lì vengo anch'io vengo anch'io come faceva nottuno nottuno ciao ciao